Ciao a tutti ragazzi, sono io, sono il K300 e ben ritornati in questo nuovissimo video di Fortnite Oggi ragazzi questo video non sarà molto pieno di tre virgolette contenute Anche perchè comunque ci sono poche cose all'interno del foglio di gioco E specialmente appunto oggi parleremo appunto della patch e di tutte le altre cose Ho detto appunto nella stessa praticamente linea temporale però vabbè Andiamo a parlare ragazzi delle skin di oggi Le skin che sono uscite oggi sono state create da un utente, è stato appunto un concept Di un utente su Twitter che l'aveva rilasciata 10 mesi fa e appunto dopo 10 mesi Epic Games appunto l'ha rilasciata nel gioco Quindi questa qui è una piccola curiosità, non so chi sia l'utente ben preciso ovviamente Anche perchè ci tengo a specificare che non è il mio concept, non so di chi sia onestamente Però questa qui è l'immagine ufficiale appunto del concept che aveva rilasciato questo ragazzo Andiamo ragazzi invece a parlare delle cose un poco più fresche e poi parliamo praticamente del futuro Abbiamo ragazzi i server di gestione temporanea Quindi vi ricordo che quando i server sono in gestione temporanea vuol dire che già sono pronti per essere rilasciati Quindi già sono stati testati, hanno fatto tutto, hanno subito tutte le build che potevano E sono stati rilasciati e che verranno appunto rilasciati In questo caso parliamo della 16.20 anche perchè la patch appunto che dovrebbe venire questa settimana Cioè non questa, la prossima ovviamente tra martedì e mercoledì e a solito giovedì questi tre giorni cruciali Che solitamente il giovedì non c'è quasi mai, il martedì è quasi sicuro e il mercoledì Quando magari c'è qualche errore nella pubblicazione del martedì magari la rinviano a mercoledì Ma è molto probabile sempre che la mettano il martedì Quindi aspettiamoci una patch esattamente, aspettate che vi dico immediatamente Il 13 di aprile, quindi aspettiamoci una patch del genere per il 13 aprile Anche perchè non sappiamo che tipo di contenuto potrà portare questa patch Sappiamo soltanto che ha 19 build in meno rispetto alle build che aveva la 16.10 Che come sappiamo appunto ha aggiunto molte build E quindi questa è una cosa Un'altra cosa importante è la patch addirittura a 16.40 Perchè già hanno testato la 16.30, non è ancora entrata nei fori di gestione temporanea Perchè giustamente ancora è troppo presto e non avrebbe senso Ma già stanno cominciando a testare la 16.40 E quindi devo dire che Heavy Games sta andando super velocissima con queste patch Probabilmente vuole finire questa season subito Perchè ragazzi a quanto pare questa season comunque si sta dimostrando una season molto sbrigadiva Quindi con molti contenuti molto velocemente proprio buttati lì E ci sta Anche perchè la sua durata dura fino all'8 giugno praticamente non è niente Considerando che è iniziata il 16 di marzo, il 16 di aprile un mese Il 16 di maggio sono due mesi e invece poi non ci arriva neanche al 16 di giugno Quindi sono praticamente due mesi e otto giorni Quindi non sono tantissimo per una season di Fortnite se ci pensate bene Quindi devo dire GG Perchè probabilmente questa qua sarà una season che sarà di mezzo Cioè sarà per tappare magari la storyline che essendo troppo Magari che dovrebbe essere un po' troppo corta Per tappare un pochettino l'andamento della storyline Probabilmente non ha messo la season 6 Un po' come la season 4 secondo me Che hanno voluto mettere il tema supereroi, il tema collaborazione Per poi alla fine mettere un evento grande come Galactus Appunto che risucchia il punto zero, che risucchia l'energia del punto zero E secondo me fanno queste season diciamo molto lunghe Oppure magari il tema collaborazione semplicemente per riempire la storyline E soprattutto forse per andare, per far andare la storyline molto più velocemente Soprattutto per non tra l'altro annoiarci Madonna mi è caduto il telefono Comunque, infatti appunto se ci pensiamo nel capitolo 2 stagione 1 È durata tanto, molto probabilmente perchè ancora era la prima season del capitolo 2 E non potevano farla durare pochissimo Perchè inizialmente durava due mesi, due mesi e mezzo mi ricordo Poi l'hanno posticipata tipo di un sacco La season 2 è la stessa cosa Ma secondo me la season 2, a parte fatto pandemia Che poi alla fine si è dimostrata appunto una cosa che ci sta E poi comunque secondo me perchè la season 3 Essendo a tema che doveva essere a tema acqua L'hanno voluta far uscire a giugno In questo modo appunto hanno azzeccato anche il tema Appunto dell'estate nella pietra reale Con nel gioco con l'inundazione E ci sta Tutto sommato ci può anche stare Comunque ragazzi queste qua erano piccole considerazioni Piccole cose, capitemi Non c'è moltissimo di cui parlare In questo ultimo periodo Sicuramente martedì prossimo O questosine settimana Anche se già è fine settimana, già siamo venerdì Quindi non lo so Tra due, tre giorni Appunto potremo avere molti più contenuti Magari fare un video della patch Non lo so, vedremo E niente ragazzi Vi dico di... Vi lascio e niente Noi quindi ci vediamo a un prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti